Signori buongiorno e bentornati sul canale del MasterKai Io sono il MasterKai e il vostro host è su questo canale Questa settimana prendiamo una pausa dalla programmazione regolare perché si festeggia il primo anno dall'apertura del mio canale quindi ho deciso di fare un video speciale dedicato a raccontare un attimo quello che è successo nell'ultimo anno e dire anche qualcosa su di me Quelli che sono interessati esclusivamente al gioco di ruolo possono anche saltarsi questo video senza nessun rancore Per tutti gli altri vediamo di dare un'occhiata a cos'è il canale del MasterKai Circa un anno fa, il 23 ottobre 2016 per essere corretti ho pubblicato il primo video sul canale che era il video 0 della rubrica delle fondamenta del dungeon che tecnicamente doveva essere la rubrica principale del canale in realtà ne sono usciti 14 episodi poi ho cominciato a fare il D20 System e l'arte del masteraggio ed è più o meno andata in malora però come spoiler ho già cominciato a scrivere i nuovi video però devo ancora raccogliere un sacco di materiale quindi probabilmente direttamente per l'anno prossimo anche perché adesso sono corto di tempi il mese prossimo ci sono i comics quindi non avrò neanche tempo di registrare se riesco vi faccio un video sui comics ma non prometto nulla diciamo che mi porto dietro la telecamera poi si vedrà ho deciso di aprire il canale dopo molti molti anni che seguivo l'ambiente YouTube ho cominciato a guardare i primi video YouTube quando questo non era ancora mainstream stiamo parlando del 2010 grossomodo diciamo che quando è iniziata la corrente di YouTube Italia fin dall'inizio mi sarebbe sempre piaciuto fare un canale che parlasse di qualcosa il fatto che all'epoca sia come lavoro che come competenze non avevo proprio il tempo di mettermici a farlo per molti anni sono avuto veramente poco tempo libero il poco tempo libero che avevo naturalmente ero occupato dallo scrivere le quest e poi masterarle un paio d'anni fa per un bizzarro singhiozzo della trama del destino mettiamola così sono diventato amico con il dottor Koch del canale Kochs Poop che è stato il primo video commesso tra i canali consigliati appunto perché è stato lui fondamentalmente a convincermi a fare un canale di YouTube all'inizio mi ha fatto ho spiegato un paio di cose sul montaggio lui è un pooper quindi sicuramente ne sa dieci volte più di me su ste cose vi lascio magari il link del canale in descrizione se volete andare a vedere il suo lavoro comunque mi ha spronato mi ha convinto mi ha parlato mi ha spiegato un po' il funzionamento di YouTube da uno che c'era dentro e al che ho deciso va bene posso provarci naturalmente su che cosa doveva essere il canale su che cosa dovevano riguardare i video non è mai stato in dubbio la mia passione sono i giochi di ruolo diciamo che il mio ambito di competenza principale sono i giochi di ruolo quindi se doveva essere un canale su YouTube quel canale doveva parlare dei giochi di ruolo quest'estate ho anche fatto una minima variazione io faccio anche wargame e modellismo diciamo che sono più bravo sulla parte modellistica che sulla parte del gioco sono veramente scarso a giocare comunque ho provato a inserire dei video di modellismo ho visto che sono anche andati abbastanza bene rispetto alla media del canale quindi può darsi che in seguito magari alla prossima pausa estiva farò qualcos'altro anche lì non ho assolutamente un programma per nulla nella mia vita quindi so dirvi probabilmente che il mese prossimo usciranno dei video ho un'idea vaga su quello di cui dovranno parlare in realtà io comincio a scrivere un video su una roba di cui parlerò tra sei mesi e non ho idea di cosa fare nel video della settimana prossima per adesso sono riuscito a pubblicare sempre un video ogni settimana non sono mai riuscito a sbagliare abbastanza tanto da bucare un appuntamento per adesso dopo un anno di video posso almeno dire che alcune cose credo di averle imparate perlomeno ho imparato a controllare di essere grossomodo pettinato prima di accendere la videocamera rispetto proprio ai primissimi video ho cercato anche di migliorare qualcosa nel montaggio i primi video che facevo erano totalmente a braccio poi quando le cose hanno cominciato a essere un attimo più serie ho visto cosa potevo effettivamente fare e soprattutto che i miei video cominciavano ad avere un ritorno che è una cosa stupida però mi ha fatto piacere ho cominciato a mettermi più seriamente adesso diciamo che non ho tutto scritto però seguo una traccia questo mi ha permesso anche di poter anche solo alternare il montaggio sì perché io non ho due videocamere quindi quando vedete l'immagine che si sposta vuol dire che la registrazione viene interrotta poi viene fatta un'altra registrazione e poi viene inserita nel posto giusto durante il montaggio non sono io che mi volto veramente e parlo a un'altra telecamera non vorrei che qualcuno ci rimanesse male da questa scoperta una cosa di cui vi devo ringraziare tutti in linea generale è proprio il ritorno che ho avuto al canale adesso al momento in cui sto registrando siete una settantina grossomodo adesso ho guato stamattina 66 se non sbaglio tempo che il video verrà pubblicato non lo so se siete saliti o scesi però diciamo intorno alla settantina in un anno non mi aspettavo di avere un risultato del genere anche se può sembrare poco partire da zero in quest'epoca dello YouTube Italia anche 50 iscritti sarebbero stati un risultato eccezionale nel giro di un anno partendo da assolutamente zero e cercando fondamentalmente di non fare pubblicità non sono di quelle persone a cui piace spammare francamente non ho non ho neanche l'illusione di arrivare ad avere un canale con decine di migliaia di iscritti parlando di giochi di ruolo e nello specifico di giochi di ruolo dal punto di vista del master se pensassi di poter avere un successo maggiore di quello che sto avendo sarei solamente un povero illuso però quello che mi ha fatto piacere è che nonostante l'alto numero di iscritti e nonostante un intero anno di attività non ci sono stati problemi non ci sono state polemiche non c'è stata gente che insulta il massimo della critica che ho ricevuto è stato verso l'inizio un paio di persone che mi hanno consigliato di migliorare un po' le luci cosa che io poi non ho fatto ma va bene lo stesso quando ho iniziato il canale uno dei motivi che mi ha frenato all'inizio da aprire il canale era appunto quello che avevo una paura fottuta del casino polemiche insulti che sono tipici dell'ambiente di youtube il fatto che questo sul mio canale non si sia verificato a me fa un enorme piacere ho anche visto canali piccoli come il mio con cui diciamo sono in contatto ho collaborato con nel senso più vago del termine che nonostante nonostante siano piccoli nonostante parlano di argomenti di nicchia comunque sono stati coinvolti nel giro delle polemiche e degli insulti non voglio far durare troppo il video quindi prima di andare voglio lasciarvi con una chicca prima di fare il primo video quello è stato pubblicato cioè l'episodio zero delle fondamenta del dungeon ho fatto un video di prova per vedere impratichirmi ora quel video era agghiacciante non è mai stato neanche pubblicato non è neanche su youtube come video fuori elenco diciamo che state per assista un'anteprima assoluta guardatelo sincronizzazione del microfono ok queste sono le luci naturali della stanza e l'inquadratura come dovrebbe rimanere adesso provo ad accendere gli ombrelli e chiudere la luce naturale vediamo se resta diversamente ok adesso ci sono solo le luci degli ombrelli accesi senza luce della stanza senza luce naturale perché sono le due e mezza del mattino che secondo me è il momento migliore per registrare sono vestito come uno scappato di casa sono spettinato e ho la barba lercia questo per dimostrare la professionalità con cui faccio questa cosa faceva veramente schifo quindi ritenetevi fortunati i video potrebbero essere veramente peggio di quello che sono dalla settimana prossima riparte la programmazione regolare del canale devo vedere se riuscirò a fare un video per Luca o meno come dicevo però diciamo che mal che vada ci sarà un altro speciale a breve per questo video è tutto che altro dire per questo video è tutto mi raccomando mettete un like e condividete il video perché aiuta a crescere e a diffondere i giochi di ruolo e la conoscenza di robe brutte di uno che sembra uno scappato di casa grazie e arrivederci buonanotte grazie a tutti grazie a tutti